Accompagnamento mirato, quindi noi prenderemo i gruppi dei lavoratori licenziati o comunque in via di riduzione e li accompagneremo con una formazione mirata, non più generica, con una serie di colloqui a partire dalle esigenze delle imprese, quindi non più buttati nel mercato ma a partire da quello che il mercato richiede accompagnati verso un nuovo lavoro.